Corsa di inseguimento con Troia d'Aso numero 8 chiamata a rendere 20 metri a Tank Gill SM, Toreador Gifont, Talia Axe, Tarim, Tino Rock, Teodora Caff e Teoremo M. Vediamo se sarà subito buono il primo segnale. Così sembra. Cerca per linee interne Toreador Gifont di rimanere davanti e attaccato da Tarim. Poi a contatto anche Talia Axe. Ripiega in coda Tino Rock. Insiste Tarim e in 200 metri scarsi. È al comando superando Toreador Gifont ha sbagliato Talia Axe. Terza posizione alla corda per Tank Gill SM. A precedere Teodora Caff, Teoremo M, Tino Rock e Troia d'Aso che cerca di recuperare la penalità. 400 metri in 38 con avvio da fermo perché appena assunta l'iniziativa Tarim ha subito cominciato a graduare nelle mani di Gianpaolo Minucci che interpreta l'allievo di Glauco Cicognani. I 600 sono in 46 e 3. Seconda posizione per Toreador Gifont davanti a Tank Gill SM, Teodora Caff, Teoremo M, Tino Rock e Troia d'Aso che riprende contatto con gli avversari. I 7 superstiti in fila indiana ha sbagliato invece vi ricordo Talia Axe. Non ci sono varianti davanti alle tribune con Tarim che guida accelerando in questo parziale e completa il chilometro in un comunque normale. 1-17 e mezzo seguito sempre da Toreador Gifont, Tank Gill SM, Teodora Caff, Teoremo M, Tino Rock e Troia d'Aso. Paletto degli 800 finali con situazione tattica che ancora non subisce variazioni. Accenna a spostare dalla retroguardia Troia d'Aso lo fa anche Teoremo M dalla quinta posizione. Teoremo M che affianca Teodora Caff e giunge al salchi di Tank Gill SM che segue sempre Tarim e Toreador Gifont. con Tarim che allunga e si mantiene in vantaggio su Toreador Gifont, poi Teoremo M all'esterno. Tank Gill SM, Teodora Caff che si sposta dalla corda e costringe in terza ruota Troia d'Aso, poi in coda Tino Rock. Siamo ormai vicini alla retta d'arrivo con Tarim sempre in vantaggio su Toreador Gifont. Tank Gill SM, Teoremo M, poi Teodora Caff e Troia d'Aso all'argo di tutti. Ma Tarim prosegue in vantaggio nei confronti di Toreador Gifont, poi Teodora Caff che scatta a centro pista, seguita da Troia d'Aso per l'interno e Tino Rock. Cala Teoremo M, nel finale in vantaggio Tarim nei confronti di Teodora Caff. Tarim controlla e vince su Teodora Caff per il terzo. Potrebbe farcela Tino Rock lungo la corda. Praticamente da un capo all'altro la vittoria di Tarim con Gianpaolo Minucci per il training di Glauco Cicognani. 2.37 sul mio cronometro per gli ultimi 2000 metri. E quindi ipotizzabile una media nell'ordine dell'1.15.5 per Tarim. solidissimo leader, il figlio di Valen per vincere eludendo la gran rincorsa di Teodora Caff. Autrice di Spunto Ficcante lungo la corda trova un varco alla fine Tino Rock che dovrebbe aver stampato Toreador Gifont per il terzo posto e quindi dovrebbe essere 4.65 l'arrivo ufficioso della sesta di Capannelle. Grazie a tutti.